Cioni e blu, adesso il cross allontano dalla difesa della Carrarese, c'è al limite dell'area pronto a intervenire il numero 34 e cioè Suciu, poi il tiro, la conclusione, c'è il gol, la deviazione sporca sotto rete e il gol, il vantaggio della Pistoiese che con un gol di rapina si porta in avvantaggio dalla mischia e dalla conclusione sporca tentata da Suciu, è arrivato il gol, il vantaggio della Pistoiese. Pistoiese sotto rete, infallibile ed è gol, Pistoiese 1, Carrarese 0, il vantaggio della formazione di Alessandrini che sigla l'1 a 0 con il numero 3 Sottini, Sottini che si trasforma in bomber d'attacco.